Musica Gioco a mosca cieca coi pensieri Ho bendato gli occhi coi miei sogni E giro, giro intorno a mille desideri Ma non so liberarmi di te Son le donne, il mio hobby Un pallino che mi gira nella testa Senza pace, senza soffa E non voglio, non posso dire basta! Impazzisco Donne, sempre donne Donne, solo donne Donne, donne, donne No, no, no Son le donne Il mio hobby Un pallino che mi gira nella testa Più lo buco, più ritorna Sono matto, guarda un po' che fine ho fatto Impazzisco Il mio hobby Il mio hobby Il mio hobby Un pallino che mi gira nella testa Il mio hobby Un pallino che mi gira nella testa Più lo buco Più lo buco, più ritorna Sono matto, guarda un po' che fine ho fatto Impazzisco 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 Prendiamo Impazzisco Impazzisco diğl loved century Anche qui, alla qui e te ? Alla qui e te ? Ci provi un po'. Buongiorno. E ci provi. Speriamo bene. Buongiorno. 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 Scusi, buongiorno. Buongiorno. Lei è arrivata adesso ? Sì, sono arrivata adesso. È venuto solo ? Beh, per ora sono solo. Come si sente ? Un po' stanco. Ho capito, la faccio accompagnare al numero 3. Una camera calma e quieta. Vedrà che parte. Yvonne. Dai. Accompagna il signore al numero 3. A te. Che comodi. Ecco la sua stanza. Le piace ? Moltissimo. Che finestre. Ma veramente ce n'è una sola ? Ah sì ? Eh già ? Ma io parlavo nei suoi occhi. Belli, luminosi, grandi. Sembrano due finestre. Senta, volevo dire... Michele. Scusi, sta. Per la cena ? Se vuole può mangiare in camera. In ogni modo decide il professore. Il professore che è il proprietario. Sì. Professore in scienze economiche e commerciali ? No. Ah no. Politico e attuariali ? No. Fisico e nucleari ? Ma allora che professore è scusi ? Ma è un neurologo. Ah, un neurologo. Bene. Allora dirige qualche clinica. Sì. Quale ? Questa. Questa. Eh già, questa è una clinica. Vedrà che si troverà molto bene. Ah sì ? L'assistenza è ottima e il paziente non è mai solo. Meno male. I più gravi sono assistiti giorno e notte. Perché c'è anche assistenza notturna ? Sì. E la fate voi la notturna ? Glielo ho detto a quelli più gravi. Mamma testa ! Aia testa ! Si affermote. Incubi, 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 incubi. Vado a chiamare subito il professore. Se ha bisogno di me suoni pure il campanello. Il campanello ? Sì. Ha chiamato ? No, provavo il campanello per stanotte. E sa tante volte la testa. Ah. Sa come succede con la testa di notte. Prego. E sa non c'era un po' . E' l'esplame. E si fa in una città . E' l'esplame. Perda se fokus. E' l'esplame. Sì. E' un po' . Barba fitta! XXX862392! Così? Mia russa! Eccolo! Eccolo! Fermo! Fermo! C'è agente di amici? Ma noi che siamo amici? No, non siamo agenti, ma questo è l'ambulatorio! Ingegner, lei va da rinfermire che vengo subito! Andiamo, su! Braccatemi! 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 La camicia di forza presto! backipatemi, vabbè... Lasciatemi! Lasciatemi! Che qui ci frega dei supermissili! Si calmi, signor Rossi e la smetta di giocare agli agenti segreti alle spie! Lasciatemi! Mi raccomando, cercate di calmarlo io vado a la signor WALTER vara Crecci su, su sta, è buona Lasciatemi! stabilita! Di come mettiamo sta bella camicetta bianca, bianca? falando ¡Vadi con le manichette lunghe all'ultima mota! Eh eh eh! Legalo bene, eh? calmo, dai calmo... Sennò più il fuoco Lasciami! Eh? Perda se focus Ve lo dirò io che vincerà questa corsa alle stelle Piede del fuoco deve essere il cavallo Ha visto mai che sto matto sta a chi vincere la corsa alle domenica? Vincente ho piazzato Ma no, guarda che perdete focus È la base misilistica italiana in Sardegna Aia! Aia! Monnoggi A te te ce vuoi un tranquillante No, ce vuoi tranquillante Lasciami! Te la reggi E gli do sto tranquillante Uno Due Tre Ma dammelo tutto va Ma Ignacio non sarà troppo? Ma so io come vado prato sto tranquillante qua Spiglie! Ma che siete matti? Spiglie! Spigliamo le teste! Adesso vengo Lasciatemi! Adesso stai tranquillo Lo vedi? Miei cari pazienti La vostra impazienza Mi lusinga moltissimo Perché mi fa capire che voi avete capito Che l'ora segnata dal destino Giastriscia e bussa alle porte della nostra clinica E vado ad aprire? A chi? Non lo so, lei ha detto che stanno bussando Anemia cerebrale Anemia cerebrale Dunque ieri finalmente ha vista la luce il primo volume della mia grande opera psicopatico letteraria dal titolo Pelle e ossa Carne! Certo la pelle! E già sono in possesso di tutto il materiale per i prossimi volumi Le cartilagini attraverso i secoli e a conclusione della mia illuminata carriera il terzo e ultimo volume illustratissimo dal titolo Il pelo e il contropelo Grazie, grazie Ebbene cari amici, io sono sicuro che attraverso queste mie pubblicazioni Chiunque, un po' leggendo le parole, un po' guardando le figure Si potrà rendere conto che l'origine di qualunque squilibrio È la donna Dice lui Ma intendiamoci bene Non la donna come donna di uomo Ma la femmina come femmina di maschio Ma professore, la donna è sempre una femmina Eh no, questo è il punto Tutte sono donne le donne Mentre invece pochissime sono le femmine E professore, come si fa per distinguerle? Ma col fischio Col fischio? Eh si, perché quando passa una donna che invece è femmina Ti esce spontaneo Il fischio E lo squilibrio inizia allora quando la femmina che ti ha fatto uscire fuori tutto quanto il fischio Poi se ne infischia E allora? E allora immediatamente si manifesta il trauma Questi pazienti che vediamo qui davanti a noi Sono la dimostrazione dell'esattezza della mia teoria sul fischio Signorina, mi dia la scheda per favore, prego Dottore, legga la scheda Uno, x, x, uno, due, due Signorina, la scheda dei pazienti, oh Barbetti, commendatore Anselmo, è in aula? Presenti Vuol venire per favore? Venga, venga Subito Dica signor professore Dalle mie indagini risulta che lei è affetto da gallismo parossistico E beh? Ah lo sa E lo so E allora perché la mia opera possa giovarle la consiglio di frenarsi, mi capisce? Ehi Autocontrollarsi, astenersi, se è possibile Se è possibile? Beh da un po' Proverò Faccia lei perché altrimenti le potrebbe capitare qualche cosa di molto grave Speriamo di no Speriamo, ma non so E va bene? Cercherò Ecco, bravo, vedo un po' Paziente numero due, Walter Crocci Assente Come assente? Si, assente Ha avuto un incidente ieri sera nel giardino Ah già, ricordo Allora, paziente numero tre, Carletto Rossi Anche lui ebbe un incidente Accidente l'incidente, che siamo al Parlamento Quello è il professor Papastrago E a chi sta parlando? A un immaginario auditorio Fa così tutte le mattine Allora posso provinguarmi? Prego Grazie, dopo la raggiungo E se dal nulla noi togliamo la materia, cosa rimane? Nulla E se dalla materia noi togliamo il tutto, cosa rimane? Tutto Ecco perché affermo che dal nulla noi possiamo tenere il tutto In sintesi, da noi il tutto è nulla Lei cosa fa qui? Perché non sta con gli altri ad ascoltare? Ma io sono venuto per quel denaro Oh, denaro, vile denaro, sempre denaro Ecco, vedete? Costui è la materia No, qui ci deve essere un equinozio boreale Io sono Giovanni Calbusera da... Soilo, soilo, soilo Soilo, lo so Si accomodi, prego Grazie mille, molto gentile Dopo tutta la sfacchinata che ho fatto Un riposino non guasta affatto Già, ah ah, dove? Ma qui, sulla sedia, no? Ma già, questa a bracciuoli Sofficio Aspetta, allora si segna Grazie, molto gentile Così vi ho dimostrato che si può vivere senza materia Ma cosa fa? Eh, mi alzo un pochettino, voglio sgranchirmi le gambe Bene bene, può stare in piedi Signori, ho finito Dunque, dicevamo? Ah, io sono venuto per quei soldi, la vile materia Certo, i soldi, quando si parla di soldi un bicchierino si muove Gravisce un aperitivo? Mmm, c'ha lo stomaco vuoto o mi fa girare la capa Ma io le offro anche le paste Ah, se ci sono le paste Battista, portaci delle paste Vuole una sigaretta? Uh, con piacere, grazie infinite Oh, ecco Battista Prego Troppo bruciata, preferisco questa con la crema E adesso gradirei un bicchierino per mandare giù tutta questa roba, no? Oh, ma certamente Battista, posa il cabaret sulla seggiola e porta una bottiglia di quelle che sai tu Ti raccomando, stai attento al tavolo Accidenti, è caduto Ma no, non è lui, è soltanto il vaso di Giovanni Prego Eh, basta, basta Cin, cin, cin Attenzione che si rompono i bicchierini Accidentaggio 70 gradi all'ombra, è forte Beh, adesso io dovrei andare, però vorrei pagare prima l'affitto Oh, denaro, il denaro Però allunga la mano, eh C'è una macchina da scrivere qui? Certo, eccola lì Oh, che stupido, non l'avevo vista C'è della carta? Sì Volete gentilmente apporre la vostra firma sulla ricevuta? Con piacere Grazie Oh, oh Ecco fatto Oh, adesso dove è il denaro? Ah, ecco Dunque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 100 Ecco qua Tenete Ma io non vedo nulla Appunto, il nulla è tutto L'avete detto voi, no? Accidenti si è fatto tardi Sono le tre e mezza Per fortuna che ho la macchina Permettete? Dove? Eccola qua, bella, eh 32 cilindri Arrivederci Arrivederci Materi Materi E' arrivato E' arrivato No Hai detto compagnoni Allora sei un compagnone comunista Avere compagnone al duolo? Scema la pena La pena capitale 86 metri e 92 Tu hai un codice Un codice segreto Fuori la chiave Eccola qua Doppia mandata Attico via togliatti 42 Hai scassato un cilindro Fermo Russo Non ci basta Cortina di ferro Cortina di ferro Cortina a un pezzo Perché un pezzo che sono qua Non mi lasciate passare Allora se vuoi andare via Fuori il codice segreto Codice segreto? Ssss Tuo Taci Il nemico si ascolta No Si Svidamnia Aciremiciornia Aciremiciornia Ta 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 Ehi Vendeste focus Maledetta Primo la rusta Ingegner Ma lei le rugne se le va proprio a cerca Ma lo sa che questa è una clica Ma è malattie nervose Sono tutti un po' assonati Vole li conosce no? No ma quello che mi ha colpito Non lo conoscevo Mai visto Chi è? E come chi è? E dov'è adesso? Comunque l'ho tranquillizzato E' uno nuovo E' arrivato 15 giorni fa Il giorno dopo che l'è stato dimesso Quello si crede ad essere un agente da Afibbia Della? Afibbia Afibbia americana no? Ah FBI Federal Bureau of Investigation Se dice proprio così Accidenti come è colto ingegner Ma io domando e dico Con tutta la cultura che c'ha Come fa a perdese dietro un infermiere Ignazio E pensa che ci sarebbe la signorina Fiorella Dottoressa Ignazio Andiamo Continua con la borsa e metti posto la fibbia Beh vabbè Cioè Metti Continua con la fibbia e metti posto la borsa Ah Dove eravamo rimasti? Quello la che ha? Ecco quello la Credetessi? Quello la se credetessi Un agente americano Incaricato di scoprire le spierusse Che devono rubare i piani strategici Così quando vede qualche cosa che A proposito Ma lei che cosa ci stava a fare in giardino? Ehm Stavo mandando Dei messaggi A molti non sa se le mandavo Ah Valeria Quello ha visto l'inghippo Ha pensato che lei era uno spione di Khrushchev E Puff Gli ho fatto male ingegnere Eh Buongiorno Ignazio Non hai altro da fare? Eh no E che c'ho da fare? Ah Beh Vado a cambiare l'acqua al ghiaccio No dico Il ghiaccio all'acqua Il ghiaccio? Il ghiaccio è una borsa No può rimanere il ghiaccio se già Eh no E se è scaldato Eh 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 Senta Lei è entrato qui due mesi fa Perché finiti gli studi si era ritrovato addosso un esaurimento nervoso Io l'ho curata e lei ci ha lasciati guarito Perché? Lei è dispiessuto? No 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 Soltanto che nel frattempo qualcosa è caduto E non più nella sua testa ma qui nel suo cuore Cosicché di messo un mese fa rientrò dicendo che non era guarito Io sapevo che non era vero ma ho fatto finta di niente Dopo una settimana è riuscito ma è rientrato tre giorni dopo dicendo che ancora non era guarito E infatti è uscito dieci giorni fa e ed eccolo ancora qui Io so che lei è un ipotiroideo, un timidissimo ma sei innamorato perché ha tanta paura di parlarne Tanti ha capito tutto Vuole che le confesse una cosa? Anche io Ma veramente? Zitto timidone Avrò poco Ignazio! Ignazio! Ingegnè! Ingegnè che è successo? Che è stato? Se senti poco bene Ingegnè? No 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 mi sento bene anzi no sto malissimo Come sarebbe sto malissimo? Ho combinato un guaio Quale guaio Ingegnè? Mi dica Fiorella Ma non doveva essere Valeria Ecco doveva essere Valeria Invece Fiorella Come Fiorella? Cioè Fiorella ha capito Tutto quello che io speravo che capisse Valeria L'ha capito Fiorella Ma non ha capito? No ha capito No perché doveva capire Doveva capire che doveva capirlo Valeria Ingegnè Ingegnè Invece l'ha capito lei Ecco qui c'è il ghiaccio fresco Ma io lo metto in testa Così se sente meglio E mi fa capito Questa è Valeria Questa è Valeria Questa è Valeria No 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 è questa Valeria È più bella Questa è Fiorella Maestro Bellini Davvero Bellini Ma no maestro Questo non è Bellini È sempre Verdi Bellini Eravate veramente Bellini Lei è Walter Crocci Perché? Che cosa ha da dire lei su Walter Crocci? Boh Io Walter Crocci lo conosco Da quando eravamo in asilo È uno di quei ragazzi bruciati verdi Se c'è uno che brucia verdi È proprio lei Io? Perché? Sono cucina in tutte le salse Senta io cucinerò verdi Anche in salsa verde Ma non compongo balletti rosa Screanzato Ha 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 sentito la squilla della verità eh? Pa 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 O preferiva forse cullarsi nei sogni Ma che sogni? Tra Walter Crocci a me non cerca della simpatia E lei lo sa perché continua a plagiare i maestri del passato? Perché è incapace di provare qualsiasi sentimento Alla voce del cuore lei è sordo Come Beethoven Ma che Beethoven? Come? Ma che Beethoven? Lei è un musicista fallito E ora vado in aula Che il professor De Mattei la sta aspettando Hai capito? In Chisina e Praia mi sono cazzato? Ma insomma a lei gli piace Valeria E non si preoccupi dalla dottoressa Quella ci prova con tutti E poi vedrà che si consolerà con quel matto del maestro Piccolini Ah si? Pensi a Valeria Io ci penso ma il pensiero non basta Ci vuole un'azione E allora agisca eh Agisca, sono un timido io Lo sai che l'anno che la guardo? Che la seguo? Che le tiro i sassolini per capo alla finestra E si affacci e poi mi nascondo per guardarle Non riesco a dire una parola? E lei si crede che quella non si era accorta Ma le donne sono furbe sa Guardi, adesso le faccio vedere io come deve fare No, anzi Me faccia senti che cosa direbbe una donna quando la vuole avvicinare Me faccia senti Dunque direi Signorina Dal primo giorno che l'ho scorta Nooo Che l'ho veduta Che l'ho veduta Ho avuto agio di constatare Dal primo giorno che l'ho scorta ho notato Ho notato che i suoi occhi sono bellissimi e splendenti Belli come il cielo azzurro dell'aprile I tuoi capelli mi ricordano le spighe mature a lui Le tue labbra mi ricordano le fragole di settembre E la tua bella capoccia mi ricorda il cocommero di Mizzio Ma che è sto museo dei ricordi ortofrutticoli? No, no, adesso facciamo una bella cosa Adesso lei dorme, si riposa dalla botta in testa che ha avuto E domani le dirò io come deve fare con Valeria Sia tranquillo Grazie Buonanotte Maestro Piccolini Le sembra questa l'ora di arrivare in aula? Mi scusi professore Beh per questa volta passi Ma si ricordi che al prossimo ritardo Le faccio ascoltare per punizione tutte le canzoni Degli ultimi festival di Sanremo Mi arrendo Oh dunque riepilogando Le conseguenze di questo squilibrio Grazie Possono manifestarsi nelle forme più varie Come la timidezza ossessiva di Walter Crocci La convinzione di Carlo Rossi di essere un agente segreto E il ripudio della musica di Verdi da parte del maestro Pigolini Convinto com'è che sia la sua E infine l'esasperato interessamento del commendator Barbetti Per il genere femminile che prima o poi non so come andrà a finire Comunque io sono certo di avervi definitivamente guariti Domani vi rimetterò in circolazione accordandovi tre giorni di libera uscita Dunque potrete avvicinare le donne Buono buono Svaldo non dico a te ci mancherebbe altro Però che tipo suo zio eh Dunque come vi dicevo Parlerete con le donne Passeggerete con loro ma senza cedere alle loro lusinghe Chiaro? Dice lui Senta professore anche lei domani lascia la clinica? No io non mi muoverò da qui Hai capito Però vi farò accompagnare dalle mie infermiere nella località prestabilita Dove troverete tutto Mare, pineta, sole, donne, scampi e gamberetti E indubbiamente anche delle femmine Professore posso? Dica 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 Prego Hai sentito? Professore vorrei che fosse la signorina Ivonne ad accompagnarmi Allontanate Ivonne fedanzata mia eh In boccante Non gridi tanto professore Mi scuote e sono malato Malato di gallismo clonico sei? Ma beh Accorto stai Per vendicare il mio onore capace di tutto sono io Ma si calmi Io ho detto così per dire Va bene La signorina Ivonne è sacra e immionabile Chi gliela tocca No Benissimo Il maschio latino fai La zamba morta facesti La camicia di forza te faccio mettere Lotte intestine Fra parenti non vanno mai d'accordo Pronto? Si Si Che è il padre di Franco Gigliozzi nell'atrio Signorina Nucci Signorina Nucci Scusi se la distolgo vero? Accompagni il signor Franco Gigliozzi nell'atrio Scusi sa Ah bene Prego signor Gigliozzi Grazie Sì 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 Dov'è il Comendatore Gigliozzi? Così hai detto e ci sei rimasto Beh sai papà il mio amico ha tanto bisogno di assistenza Eh Esatto mi prendi per un imbecille Credi che non abbia capito qual'è il motivo che ti ha trattenuto qui? Di cos'è successo fra te Teresa? Papà ti prego non ricominciamo Teresa è una brava ragazza ma io non la sposerò mai Eh no Tu Teresa Rossini la sposerai Altrimenti sai cosa faccio? Ti diseredo Gli zuccherifici Rossini e i caseifici Gigliozzi devono diventare una sola grande azienda Hai capito? Ma papà mischiare lo zucchero con il formaggio Beh che porcheria Eh beh formaggio dolce Beh porcheria o non porcheria tu sposerai Teresa Ho già provveduto eh Ecco tu le regali questo braccialetto Fate la pace e fissate il giorno e la data del matrimonio Va bene? Ecco tieni Papà non insistere Io amo Nucci Nucci? E chi è? Ah ho capito quella infermiera Ma andiamo infatuazioni ragazzo mio Non mi dirai che prendi sul serio un'infermiera A me piace E a me non piace affatto tutta questa storia E non mi piace nemmeno quella ragazza Basta guardarla come cammino Ti dimostrerò che non fa per te Dove vai? Non viene via con me? No papà ho promesso al mio amico di portarlo sulla spiaggia Abbiamo tre giorni di libertà Ma si? Beh se hai bisogno di riposo allora andrai al campeggio Anzi ti manderò ciccio il mio segretario Scusami papà ma io vado al mare Al campeggio Vado al mare E va bene allora io verrò al mare con Teresa Va bene E io vado al campeggio Ciao papà E io vado al caseificio Va benissimo ciao E io vado al mare Ed ora vi raccomando la massima attenzione Perché state per assistere allo scoprimento della più strepitosa invenzione del secolo Questa macchina signori pazienti è azionata da energia atomica e un congegno a ultrasuoni consente di proiettare le immagini del presente, del passato e del futuro E seppre che stia esagerato E seppre che stia esagerato E seppre che stia esagerato Attraverso questo schermo io potrò seguire tutte le vostre azioni Se faccio vedere come funziona E' semplicissimo Bergonzetti prego, faccia vedere Capita la scarica Ricaricatelo E non è niente, un po' di umido nello spinterogeno ma ci penso io adesso Ehi Calma, calma signori, non vi spaventate Ci deve essere stata un'interferenza di Lucifero Ecco, già è passato Ma lei, dottor Vergonzini, ha i parenti in tutto il mondo Silenzio, come vi dicevo, attraverso questa macchina È perfino possibile ricostruire la storia della civiltà umana Si rivede il passato, eh? Si anticipa il futuro E si capta il presente Eccolo là Che sventola Ecco, ci siamo Questo è il posto dove andrete Eh, sì C'è un clima meraviglioso Ma chi mi frega del clima? Mamma mia Scusi, professore Non si potrebbe anticipare la libera uscita? Eh, no Perché per essere proprio sicuro dell'esattezza delle mie esperienze Vi devo ancora sottoporre ad un ultimo esperimento Operazione Spogliarello Oh Con la partecipazione straordinaria di Bibi No I miei due assistenti, Bergonzini e Bergonzini Lei e loro Ma per carità Calma, signori Calma No Se riuscirete a mantenervi padroni dei vostri istinti Vorrà dire che le mie cure non saranno state inutili Perché il subcosciente Che è sub proprio perché sta sotto Ah, sì, sì Non deve mai farsi vedere di sopra Mai Questo è vero Ma che piccico Insomma, la femmina Questa rovina dell'umanità Va combattuta con le sue stesse armi Indifferenza e contegno Ecco quello che ci vuole Siamo pronti? Sì Sì Mi raccomando, non la rompete Signore Mi raccomando, la massima attenzione Sta per aver inizio l'intervento Grazie 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 Mi raccomando signori, la massima calma Calza destra, calza destra, calza destra Sottoveste, sottoveste, sottoveste Reggiseno, reggiseno, reggetemi, mia moglie Oh cara, come sei stata opportuna pure questa volta Ma che cara è cara, è uno sconcio che deve finire Te l'ho detto mille volte di non usare le tue infermiere per i tuoi esperimenti Per quelli basto io Che cosa hanno poi più di me queste donne? Oh nulla cara Ragazze, anche lei dottore, andate pure Lei no professore, non mi lasci qui solo in valia della fiera, la prego Professore Dica Scusi, la sua signora sostituisce quell'apopò di infermiera che è uscita? Sembra In tutto e per tutto? In tutto e per tutto No, dico sottoveste, tutto quanto? Purtroppo Mi assento Comprendo Scusi professore, dovrei chiamare una persona al telefono, posso? Capisco Devo andare a rispondere a lui che vi va a chiamare Avanti Buongiorno Buongiorno Una giornata magnifica Bella Oggi lei è libero, può uscire? Uscire? E chi si muove da qui insomma? Ma come? Il professore le ha dato tre giorni liberi? Sì, ma se al mattino la sveglia me la fa lei, io da qui non mi sposto Ma allora il suo è proprio un incubo È un incubo È un incubo Un incubo Un incubo La smetta Se la vedesse Franco Ecco, quello è bello, quello è bello Giovane bruciacchiato Avanti Buongiorno Comendatore, come sta oggi? E come sto? Come un Cesare Tra il sole e l'aurora Così va bene, quando fai il poeta mi piace Eh beh Buongiorno Buongiorno La colazione, Comendatore Tutta roba fresca, genuina, buona Guardi Comendatore, la colazione qui sul vassoio Appunto, dicevo, buona la colazione Quanto è buona la colazione Ma quando imparerà a tenere le mani a posto? Gloria mia, lo sai che il mio è un incubo, no? Storie, il suo incubo è la solitudine Pensi a sistemarsi Perché non piglia moglie? Sì, domani Meglio vivere un giorno da scapolo Che cento anni da ammogliato Scusa la retorica Le baciami, Gloria Voglio essere baciato dalla Gloria Certo, volentieri Grazie Chiuda gli occhi Con gli occhi chiusi Dottor Bergonzetti Gloria, che fai? Dottor Bergonzetti Ma chissà, mi fa zitta Cosa c'è? Il paziente Barbetti sta facendo i capricci Beh, pazienza, è un malato Sì, ma il guaio è che è pericoloso Ha le mani un po' lunghe Ah sì, eh? Vada, vada pure Caro il nostro comendatore Barbetti Sento dire che il nostro comendatore è lungo di mani Possibile che non debba pensare altro che alle piacevolezze delle donne Perché lei non pensa alle piacevolezze delle donne? Mai Mai, mai? Mai Ho capito Cosa ha capito? Ma io sono fedele alla mia fidanzata Hai fidanzato? Ah, per bacco Meno male Ho preso una paura per lei Non divaghiamo Le infermiere non fanno altro che lamentarsi per la sua pessima condotta Eh no, caro dottore Sono io che devo lamentarmi Altro che Ma via Possibile che lei non riesca a distrarsi in qualche modo Non lo so, con la lettura Non si diverte a leggere? Ci ho provato Non mi diverto, eh? Già Beh, facciamo la solita visita Come si sente lei oggi? Io bene, grazie E lei? Oh, non c'è male Però sono due o tre giorni che mi sento un doloruccio qua che mi gira tutto attorno e mi si ripercuote qua Lei dorme con le finestre a pepe? Ma veramente? No, mi dica tutto, eh? Ma Tossisca? Ancora? Ancora, ancora Lei è affetto da irritazione pleurico-focale con diffusione all'apice bronco-respiratorio Mamma mia, e che cos'è? Niente, un po' di dosse C'è bisogno di parlare così difficile? Terminologia professionale A scienze non batte più È grave? No, credo si tratti solo del bilanciere Il bilanciere? Nel polso? No, l'orologia, fermo, guardi Si è fatto mai visitare? Io? Mai Ho capito, l'avrei giurato Scarsa fiducia dei medici Che c'entra? Caro professore, lei si è beccata una scarlattinetta che non le dico Le consiglio di mettersi subito a letto È una parola, con tutto quello che ho da fare Va bene, ma la salute E senta, per quel doloruccio che cosa mi consiglia di fare? Le consiglio una bella lì fiette via al terapia E che vuol dire? Vuol dire liberarsi fidanzata e vivere allegramente Ha capito, professore? Può favorire? No, grazie Ufficio produzione? Eh, no, non ci siamo Ma quante volte vi si deve ripetere che per un niente di groviera Gigliozzi La sola, la vera groviera I buchi devono essere 25 Sapete quanti sono? 23 Dicasi 23 Eh, no, pronto Pronto, un momento, vi richiamo, c'è un intercomunale Pronto, pronto Caseifici Gigliozzi Ma no, se le chiamano può essere Gigliozzi Gigliozzi siamo noi Ah, è lei Comendatore, mi scusi Stia a sentire quello che deve fare Cerchi di capire bene almeno una volta, imbecille Certo Certo, comendatore Certo che sono un imbecille Come devo andare a prendere Franco e portarlo al campeggio? Sta bene L'infermiera si chiama Nucci Ah, anche lei devo portarla al campeggio Ma che ha capito, cretino? No, no, non ho capito Naturalmente, come al solito Certo, mi pareva Ecco, vado a prendere Franco e lo porto al campeggio, non alla spiaggia Ecco, al capo Lei, no Benissimo, d'accordo, perfetto Fantattico, professore, fantastico Sì, però come ti sei vestito Che ne so, campeggio, campeggio A proposito, sei sicuro che sia stata un'idea tua quella di venirmi a prendere in clinica e portarmi qui? Papà, non c'entra niente Niente male, eh? Senti, non cambiare discorso Tanto, anche se mi terrete lontano dal mare Io, Nucci, la rivedrò lo stesso Nucci, sempre Nucci, ma è un'idea fissa la tua Ma pensa ad altro Alle tue responsabilità, per esempio Sei o non sei l'erede dei rinnovati caseifici gigliozzi? Sì, ma non si vive di solo formaggio Appunto Ecco Beh, ma qui cosa ti manca? La natura, le belle ragazze E poi puoi mettere l'aria che si respira da queste parti Lontano dal frastuono della spiaggia Dalle grida dei bagnanti E qui non ci saranno le grida dei bagnanti Però in compenso ci sono le due Che è successo? Ah niente, la solita martellata sui piedi Aspetti un attimo Ma quella è la signorina Elena dei Bianchi È una paziente? Ah, tanto paziente Presto, presto, individuatemi subito l'ubicazione esatta della pineta Latitudine, longitudine, temperatura e posizione dei cespugli E qui qua l'alcol Non le fa ancora male? Ai, brucia Grazie, signorina Ma le pare E adesso, in nome della scienza, continuiamo pure i nostri esperimenti Cerchiamo di inquadrare subito un altro paziente Eccola, va Panino, viene un po' Per favore, dammi una cammina a due piazze Vieni Di là Grazie, can Ma comendatore, lei aveva detto di aspettarmi fuori Luci è stata più forte di me la passione Mi faccia mettere a nudo E no, comendatore, adesso lei esagera Ma volevo dire, mi faccia mettere a nudo la mia anima, i miei sentimenti Mi dia retta, Nucci E la coprirò d'oro Ma perché mi ha presa? Scusi Eppure gliel'ho detto che mi piace solo quando fai il poeta Il poeta Sì Che gelida manina Se la lasci riscaldare Vedi, Nucci La cosa che più mi stordisce di lei Che più mi affascina È il suo profumo Perché non mi svela il mistero del suo profumo? È il profumo di rosa? È il profumo di zagara? È il profumo di mortadella Francese, mortadella numero due Mortadella? È la mia merenda La merenda Che delusione E lei viene ai convegni d'amore Con la merenda Comendatore, sia gentile Esco un momento Devo mettermi in costume Si mette in costume? Sì Allora resto Comendatore Esca per cortesia, sia gentile Ma perché? La prego, comendatore Sia gentile E tutto si riduce in una merenda Con la mortadella E' buona la mortadella però Ma che ci faccio? Ma che? Dai che provo io Dai Ai No Un momento Ah Sei un bel tipo Va La cosa che non riesco a capire in lei Cara Nucci È la sua fissazione per quel franco Proviamo un po' a pensarci bene Guardiamo un po' intorno a noi Guardiamo questo mare a fiori Ma io credevo che dovessimo guardare il mare Si E appunto Il mare e il bichini Sai col bichini il mare è un'altra cosa Ma è incorreggibile E' vero professore Ah eccolo qua il nostro morgo e il pirata Trovate il tesoro? Dico Oh Non l'avrà fatta mica lui queste uova no? Non lo so Beh come vanno le bozze frontali dottore Calcifica Calcifica Certo Ma che fa dottore? Ma niente ho provato la durezza Mi pare che come durezza siamo a posto Seguire le mie ebonne se potrebbe Oh con queste ebonne basta No mi ageriamo dottore Vediamo piuttosto cosa succede al maestro Pigolini Giusto vediamo Eh? Addio sogni del passato Giore Fiorella Eri l'unica nota lieta della mia vita E io ti ho perduta Ma La donna è mobile Dottoressa Buongiorno maestro Come si trova in albergo? Boh Allegro Ma non troppo Anzi un po' stonato Boh A giudicare da quello che sta suonando direi un po' plagiato Ma allora non c'è più speranza per me Sono condannata a plagiare sempre tutti Possibile che non riesca a essere me stesso Io voglio creare 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 E allora cerchi di dimenticare i grandi maestri del passato Si dì un'occhiata intorno Cerchi l'ispirazione dinanzi a sé Ho cercato di farlo una volta E mi hanno detto che ero un musicista fallito Beh È proprio per questo che sono qui Sa Aveva ragione lei Qualche volta anche una dottoressa può sbagliare la diagnosi Questo è il motivo più bello che abbia mai ascoltato Davvero? Si Davvero non somiglia ad un motivo di Giuseppe Verdi? No Di Sebastiano Pagli? No Di Federico Chopin? No Di Maurizio Arena? No Questo è un motivo di Raimondo Pigolini Lo vede, lo vede che finisco sempre per plagiare qualcuno Ma Raimondo Pigolini sono io Si caro Adesso bisogna trovare un cantante che la sappia eseguire Si Un Celentano per esempio Celentano? Si Amami Ti voglio bene Con 24.000 baci Così Così trenetico è l'amore In questo giorno di follia Ogni minuto è tutto mio Ho 24.000 baci E lì ci corrono le ore È un giorno splendido per me No, no È troppo urlato C'è troppo rock in Celentano Ci vorrebbe un cantante Una cantante Dalla voce calda Mina per esempio Ah, già, Mina Brulle, mille, bolle, blu Brulle, vede intorno a me Brulle, mille, bolle, blu Che volano E volano E volano Brulle, mille, bolle, blu Brulle, vedo scintillare Brulle, mille, bolle, blu Che passano Su grappoli di nuvolen No, no Che ne diresti di Gino Paoli? Eh, Gino Paoli E sono un uomo Un uomo vero Un uomo vero Perché ti amo E sono un uomo Un uomo vivo Un uomo vivo No, no Non ci siamo Qui ci vuole un cantante vivo Veramente vivo Ma come? Insomma, sei impazzito Venire qui alla spiaggia E se il comandatore Gigliozzi Si, insomma, dico a tuo padre Lo viene a sapere Non importa Voglio rivedere ancora una volta No, ciò Ti prego, prego Buongiorno Mica male la pionda Voi mi scusate Io vado con questo comandatore Ma tranquillo, non vado Almeno per ora C'è anche mio padre, vedi? Tuo? Ah, il comandatore Gigliozzi Si, dei rinomati caseifici Gigliozzi Produttori della grovierina E dei formaggi la regina Siliamo, va? Eccomi qua Cerca qualcuno? Già, mi è sembrato di vedere quel ragazzaccio Quale? Esatto, quel figlio di papà Che ancora butta di latticini Sa chi ha luto? A Franco Gigliozzi Quello è sì, padre Quel ragazzaccio, quel figlio di papà È mio figlio Ah, il principe ereditario Appunto, della grovierina dei formaggi la regina Dica male Oh, finalmente conosco il padre di Franco Fortunata Molto lieto, signorina Permette Quanto lei dovrebbe lasciarci soli Io e la signorina Dobbiamo parlare di una faccenda che ci sta a cuore E va bene, ma io che ho combattuto a fare? Senta, questa è una faccenda di cuore per giovani Noi vecchi dobbiamo ritirarci Ha capito? Ma chi è vecchio? Ma sì, diciamocelo francamente Magari saremo conservati bene Ma siamo vecchi Questo lo deve ammettere D'accordo? Micatà Appunto E va bene? Oh, tanto più che devo essere libero Di mischiare lo zucchero col formaggio Oh, impossibile Ma come, io tenterò Per me non è difficile Io tenterò e riuscirò No, come no? Come no? No Perché non si accomoda? Perché dice Si accomoda Oh, grazie Si accomoda Se permette E sapete che faccio? Io vi lascio i vostri problemi Sì, 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 grazie Per gaita Lei è Nucci? No, no Sio Gigliozzi Io mi lascio i vostri problemi Ma si ricordi alla nostra età Attento con le donne Questi tardoni È una vera indecenza Ma insomma, Franco Ma perché non ce ne torniamo al campeggio? Ormai sono delle ore Che cerchi di parlare con Nucci Ci stiamo rovinando le vacanze Ma di che tiramenti? Abbiamo il sole, il mare Le belle ragazze E' un po' quella Teresa, qui Aspetta un momento Ma che fa? Ah, sei tu Dovevi immaginarlo Sono gli scherzi credibili Teresa, mi dici perché sei sempre arrabbata? Arrabbiata? Perché? Invece sono felice Sono molto felice Non lo vedi? Senti Teresa Sono tanti anni che noi due ci conosciamo E in tutto questo tempo Che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che bisticciare E la colpa è tua Che non perdi mai l'occasione per poter litigare Pare che ci provi gusto Ma sì, naturalmente Io sono il diavolo e tu l'acquasantiera Senti, tu sei venuto qui per litigare Ma puoi risparmiarti la fatica Tanto io domani parto Torna a casa, contento? Certo Se poi lo dici tu Che fai vestito così? Che faccio vestito così? Indago? In ascensore? Eh Indago Indago Bene E allora lubrifichiamo i muscoli? Come faccio? Io lavoro del cervello Forza Un agente investigatore che si rispetti Deve sempre avere il fisico in perfetto ordine Prendi i pesi Ma guarda che tocca fan agente segreto Presto Eccoli Che fai? Ma ha detto lei prendi i pesi? E beh ho detto prendi i pesi e poggiali là Non sono io che faccio l'indagine, no? Io faccio l'estensore Stamattina, hai capito? Prendi lì Tira Io E che io, tira? Tira Eh no Lo vedi che succede? A chi non si allena? Non hai forza Non riesci ad entrare in orbita Ti manca la spinta iniziale Avvocatore Ti immagina che questa sia una nave spaziale? Bene Io vado al timone E io aereo Ecco bravo Bravo Per entrare in orbita dobbiamo battere 33 pallati al minuto Vai Caro commentatore, io 33 pallati al minuto non le batto Come non le batti? Capirai, quei soldi non mi passano l'FBI Ti vedi? Sei un agente buonaniente Impertinente Che dimentica di essere al servizio di un ideale E che quell'ideale E che l'ideale va sempre servito Però io 33 pallati al minuto non le batto E allora come raggiungerai Yuri Gagarin? Con l'ascensore, su e giù Non basta Non basta l'ascensore su e giù Sono tre giorni che sto in questo albergo E l'agente segreto, chi è l'agente segreto? Io Ecco tu Non mi hai ancora portato una novità E non so se mi spiego Non mi hai ancora portato una novità No, 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 caro commentatore Adesso che ci penso Una novità c'è C'è? Lì? Dove lì? Sul terrazzo Sul terrazzo? C'è? Che c'è? E che c'è? Venga, venga Dimmelo Che c'è sul terrazzo? Che c'è? 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 Un nuovo tavolo Da ping pong Nuovo Nuovo Verde Sì, tutto verde E le strisce bianche Tutti intorno La retina in mezzo E la retina nuova E le raccette nuove E la che pig Ah, finalmente sesso cambiò quel Don Giovanna da sabazzo Ma no, si devono essere invertiti i fili Per carità, provvediamo subito O ai tempi che corrono potrebbe essere giusto Professore, non capisco Si deve essere guastata la macchina Prendi qua Guarda là Vedi il ping pong? Oh, il ping pong! Ma allora, se la macchina non funziona, professore Io devo seguire la mia fidanzata sulla schia Ma segua dove vuole questa sua fidanzata Oh Perché in fondo poi questo Dico, è un cervello elettronico Si tratterà semplicemente di una tele emicrania Due discoidi più volte al giorno Lontano dai pasti Guardi che ore sono Guardi che ore sono Sono le undici Ecco, proprio l'ora adatta Scopra l'apertura posteriore Ecco, uno, due Ha visto? Beh? Franco Cosa fai qui? Te lo avevo proibito Si, lo so papà Ma cercavo Ciccio Ah, così quell'animale ti ha perso di vista Ma lo licenzierò quel cretino Ma no, Ciccio Non ha nessuna colpa L'ho costretto io a venire qui sulla spiaggia Volevo parlarti di Nucci Di Nucci? E chi è Nucci? Ah, quell'infermiera Sai che ho avuto un colloquio con lei Un colloquio a quattro occhi E che cosa vi siete detto? Tante cose Dunque nel primo colloquio le ho detto quello che pensavo di lei Nel secondo che non si mettesse delle idee sbagliate nella testa E nel terzo che tu eri fidanzato con Teresa e che la devi sposare Ne hai avuti di colloquio E che cosa ti ha risposto? Beh, è stata molto comprensiva E mi sono quasi ricreduto nei suoi confronti Beh, in fondo è una brava ragazza Comunque mi ha promesso formalmente che non avrebbe mai più cercato di vederti Ah, ciao Nucci Ciao a proposito Ciao paparino Come mi sta? Sì Ti piace? Sì, sta bene Scusa un po' papà, ma questo qui non è il braccialetto di Teresa? Eh? Ah sì, 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 sì Beh, ma ne compriamo un altro Non credi stia meglio a me? A stasera E naturalmente stasera parlerete ancora di me, no? Eh? Dunque, tu vuoi proprio stabilire che Nucci non è una ragazza tatta per un Gigliozzi Eh già Un Gigliozzi figlio naturalmente Andiamo, bella roba per grandi industriali Sì, insomma, per industriali grandi Ma papà, e la tradizione di austerità dei Gigliozzi? Gente tutta casa e fabbrica Dove è andata a finire? Beh, sai, è la prima volta Eh, che tempi Che genitori bruciati Papà, hai macchiato l'onore della grovierina e dei formaggi la regina E togliti quel rossetto, non ti dona Ah, perché si vede? Sempre così, sì Ah, Franco Generalità, è lei la signorina Nucci? Sì, ma lei chi è? Le domande le faccio io Io sono il segretario del commendatore Gigliozzi A genere dei caseifici Gigliozzi Che producono la grovierina dei formaggi la regina Ma allora lei era giugnercicio Borselli A genere, oh, il commendatore Gigliozzi mi ha parlato di lei E cosa le ha detto? Beh, che è un bravo impiegato E poi? Che è molto attaccato alla ditta E poi? Nient'altro mi serve Questo è il punto Il commendatore Gigliozzi mi ha incaricato di vigilare il suo figlio Franco Che lei ben conosce Infatti lo conosco benissimo Ecco, da oggi lei non lo conosce più, chiaro? No Il commendatore Gigliozzi dei renomati caseifici Gigliozzi che producono La grovierina dei formaggi regina Questo lo vengo Ecco, mi ha dato pieno di potere Finch'è io agisco in modo che Franco non veda più lei e lei non veda più lui, chiaro? Ma ormai è stato tutto chiarito Eh, eh, io li conosco bene i tipi come lei Lei appartiene a quella categoria di donne che circuiscono, seducono, concupiscono i giovani ingenui e inesperti Sono così terribile Non me ne ero mai accorta Ma io sì Ah, io l'occhio lungo Lei a me non la farebbe di certo Io tranquillo, non ci vorrei nemmeno provare E perché? Eh, eh, perché si vede che lei è un tipo in gamba tutto d'un pezzo Hai indovinato Ma invece di tentare di corrompere Franco, perché non prova col padre? Il commendatore Gigliozzi troverebbe pane per i suoi denti Dice? Eh, quello sì che è un uomo Non si illuda di trovare nel commendatore Gigliozzi Un cretino che si lascia abbindolare dai suoi sorrisi Un idiota che si lascia irretire dai suoi sguardi Un deficiente che... Idiota, cretino, deficiente a me? Lo sai chi sono io? Signor sì Il commendatore Gigliozzi a genere dei caseifici Gigliozzi Che producono la grovierina, dei formaggi e la regina Perfettamente, eh? Che lo sai cosa ti faccio io? Io ti licenzio su due piedi Anzi, su tre piedi Voltati Questo per l'ingliota Questo per il cretino E questo per il deficiente Lo so se... Eh? Se n'è andato, eh? Buono caro, non essere impaziente Con questo indecentissimo costume ti scopro I calori c'hai, vero? Ma caro, non pretenderai che venga a andare col cappotto? Appunto, in montagna deve andare dove occhi indiscreti di maschi non si posono sulle tue rotondità Ma che fai? Zitta, femmina E questa cappottoia indossa Cropiti Ma dove mi porti? Via di qui In montagna deve andare Sull'Himalaya Dove solo l'abominevole uomo delle nevi ti può vedere Via, non esagerare Chi vuoi che mi veda qui? Ah, nessuno qua dentro ti può vedere Desdemona Ma chi c'è qui? Il tuo amante? Caro, non ti posso spiegare Sulla questione d'onore io non discuto Uccido Lasciamo andare Chi c'è qua dietro? Desonorata Con un compaesano mi tradisci? Tu, casa nuova degli antropomorfi Ti uccido Lascialo stare Lascialo stare Poverino, ti ho fatto male Brutto, cattivo Perché ti chiedi il mio sbaldo? Buongiorno Buongiorno Le dispiace se mi seguo un momento? Prego, si accomodi Allora? Lei è il signor Sentieri? Sì, signorina, sono Joe Sentieri E lei conosce il maestro Pigolini? Francamente no, signorina Beh, non importa Conoscerà il maestro Verdi, suppongo? Beh, sì, naturalmente Verdi lo conosco Oh, finalmente Lei è proprio la persona che fa il caso mio Mi perdoni, ma potrei sapere che cosa vuole da me E che c'entra Verdi? Scusi tanto, sa C'entra Perché il maestro Pigolini è un suo allievo Lo chiamano il cigno di Gallaralmi Ha visto, professore? Ha visto Yvonne, dottore? Che faceva? In poteca era Ma sulla rettaria la riportai Sì, va bene, va bene Ma ora guardiamo qui Che la cosa si sta facendo Molto interessante Ma come? Non sei partita stamattina? Non ancora Guarda che fai uno sbaglio Di questa stagione si sta bene sulla spiaggia Perché non andiamo a fare un baglio? Puoi partire anche domani Io penso che abbiamo ancora molte cose da dirci Ah, sì? Sai che ho pensato ieri? Che tutti e due dovremmo mettere una pietra sul passato Tu che ne dici? Dipende da te E perché da te? Fra noi due chi deve decidere Sei tu Sempre Che tu voglia decidere, naturalmente E' inutile, non ti credo più Ah no? Allora me ne vado Ma se vado via Non torno più Ma fai come ti pare Tanto te l'ho detto Stasera parto E allora buon viaggio E se ci ripensi? Beh, se ci ripensi Sai dove trovarmi Ma questo che cos'è? Lo spogliarello Beh già ma Non sarà mica i buoni mia Pronto? Signorina? Mi dia l'isola della quiete Subito Pronto? Sono Walter Croci Ah, il signor Croci Come sta? Io bene E lei? Ho una crisi di depressione Una crisi di depressione? Ma non capisco Secondo la sua cartella clinica le risultava guarito Ho bisogno di assistenza Certo che può contare sulla nostra assistenza Ma non credo che il professore possa venire là No, vengo io subito Ora? Sì, è urgente Guardi che alle 6 devo uscire Vengo subito lo stesso Mi raccomando Faccia con calma Sono le tre C'è tempo Arrivederci Arrivederci Ragioniere Borselli Signor Ciccio Sono mortificata È stata colpa mia Ormai Non ha più importanza La prego Si accomodi Posso fare nulla per lei? E cosa vorrebbe fare? Ah, sì Potrebbe dire una buona parola al commendatore Gigliò Non credo Vede? Gli restituisco il suo bracciale Posso dirle una cosa? Non ho mai pensato tutte quelle brutte cose che le ho detto Lei è proprio gentile Odica anche ingenuo, inesperto Ma da stasera ho deciso di diventare un altro Peccato A me piaceva così come l'avevo conosciuto Io Io le piaccio? Beh, non è proprio un addone Però mi è molto simpatico Più di Franco? Franco Franco vedeva in me un'altra ragazza Della quale è innamorato Davvero? Sì Beh, adesso io ho fame Cameriere? I signori comandano Mi porti del petto di pollo? Bene E tu cosa prendi? Non ho appetito Ma su, devi mangiare qualcosa Un po' di formaggio per esempio Le consiglio provierina dei formaggi della regina Ah, no! Mi scusi E adesso che tutto è tranquillo Io proporrei di andarcene a prendere un caffè Rimanera preferirei, professore illusso E va bene, ma lo stuzzichi la macchina Perché mi pare non funzioni più tanto bene Poi la signorina è buona e superiore ad ogni sospetto Grazie, dottore Esattamente E' bene non esagerare Pronto, Teresa? Ah, sei tu Franco Sì, sono io Però ti prego, lasciami parlare Ho saputo che non sei partita E ho pensato che Che potevi averci ripensato Perché sai Ci ho ripensato anch'io Avevo detto che non ti avrei più cercato E invece ti ho ritelefonato Va bene se ci vediamo fra un'ora sul lungomare? Verrai? Sicuro? Va bene, sicuro Ciao A fra poco Ciao Allora, con una frase sola Semplice, semplice Signorina permette che l'accompagni? Hai capito? Bene, sì Dunque, signorina permette che l'accompagni? Ecco, bravo E' vecchia come il cucco Però va sempre bene Oh, attenta Non fassi incastrà Come sarebbe? Non si deve fare intrappolà Le donne so furbe Ma noi dobbiamo essere più furbi di loro Le donne bisogna trattarle come fiori Coglierli Annusarli E poi gettarli Per coglierle un altro Ah, ho capito Eh, io sono uomo di vita Se lasci insegnare da me Niente matrimonio L'uomo deve essere come l'aquila solitaria Ogni tanto piombo a valle Artiglia la preda Se ne fasce E poi ritorna sul suo nido Versa il sole Faccia come me Se lasci i servili Va bene Va bene De ogni modo grazie, Ignazio Eh, di chi? E avrei insegnato che una frase semplicissima Vale più di cento discorsi Non ci avevo mai pensato Pensa che è stupido Che basta dire Signorina permette che l'accompagni Eh, vai, vai Che me ne vado, eh Dunque Mi scende Io sto così Elegante Sicuro, bruno, alto Signorina Permette che l'accompagni? Eh Ignazio Ignazio Che c'è? Che è successo? E se le dici di no Come? Eh, guarda Signorina, permette che l'accompagni E lei? No E io cosa faccio se le dici di no? Eh, beh, lei risponde E perché no? Ah, tanto sì Che bello Eh già Sei no? E perché no? Grazie Allora, tutto a posto Che me ne vado, eh Dunque, signorina Permette che l'accompagni Dunque Signorina, permette che l'accompagni? Lei? No E io E perché no? Ah, e lei mi dà il brazzo Ignazio Ignazio Ma che è successo? Guarda Senti Signorina, permette che l'accompagni? Beh E lei? No E io E perché no? E lei? Se non se ne va, chiamo una guardia E io cosa faccio? Ma se è tutto previsto Se lei dice così Lei risponde Sarò io la sua guardia innamorata E la difenderò contro chiunque Che bello Capito, eh? Che bello, proviamolo Vabbè, proviamo Io faccio Valeria Io passo Signorina, permette che l'accompagni? No E perché no? Perché no? E perché no? Perché no? Ma perché no? Perché no? Ma no, perché no? Perché no? È la guardia Scusi, ingegnere E perché no? Perché no? Se non se ne va, chiamo una guardia Sarò io la sua guardia innamorata E la difenderò contro chiunque Bravo, così deve fare Mi raccomando, eh Ricordi non se faccia incastrare Se ricordi l'acqua e la solidaria Va bene Signorina, permette che l'accompagni? No E perché no? E lei? Se non se ne va, chiamo una guardia E io inginocchio Sarò io la sua guardia innamorata E la difenderò contro chiunque Lei mi darà il brano Ignatio, Ignatio Ma che cosa c'è di nuovo? A questo non va bene niente Che vuole adesso? Senti cosa ho detto Io non ho bisogno né di guardia né di amore E allora qui lei Se gioca tutto per tutto Si inginocchia così davanti a lei e dice Ma io sì Perché l'amo e senza lei non posso vivere Che bello Ha capito? Che bello Davanti alla responsabilità di una vita umana Non può tirarsi indietro Che bello Proviamo tutto da capo Io faccio Valeria Tu sei Valeria Passo Signorina, permette che l'accompagni? No E perché no? Se non se ne va, chiamo una guardia Ma sarò io la sua guardia innamorata E la difenderò contro chiunque Non ho bisogno né di guardia né di amore E qui mi inginocchio, eh Ma io sì Perché io l'amo e senza di lei non posso vivere Bravo Grazie Gnattio Oh e se ricordi, eh Niente matrimonio Che poi nascano i figli Bisogna comprare i libri per mandagli a scuola E se ricordi Ah quella solitaria Che piomba Ecco Valeria Io vado Grazie Grazie mille Dunque, signorina, permette di comprare? No E perché no? Signorina, permette che l'accompagni? Sì Come sì? Come viva? Ignazio È andato tutto male Ha rovinato tutto Perché è andato tutto male? Eh perché doveva dire di no Io avevo tutto il discorso preparato Doveva dire no E perché no? Chiamo una guardia E io sono io La sua acquida solitaria Che prende le guardie Si infasce delle guardie Annuncia il fiore E butta via la guardia Uffa Tutto rovinato E tutto questo discorso Lei me lo avrebbe fatto per Per farle dire di sì E io glielo ho detto subito Non è meglio Allora vuole accompagnarmi a casa? Dove abita? Vicino alla chiesa di Sant'Antonio Dove si è sposata mia madre Ah E dove mi sposerò anch'io? Con chi? Con qualcuno che mi vorrà bene E a cui vorrò bene Lei è sposato? No, io sono ancora Aquilotto Aquilotto? Un po' timidino come Aquilotto, no? Perché mi ha fermata? Perché ne voglio bene Anch'io gliene voglio Lei è un bravo ragazzo Potrebbe essere un buon padre di famiglia Vuole sposarmi? Ma dovrei prima parlare con i suoi genitori Sono sola Decido tutto io Ma non so Ci vogliono le carte per sposarmi Non è molto difficile Basta riempire questo Ma io non me ne intendo Io sì Sono la minora di cinque sorelle già sposate Senti Se mi hai fermata è perché ti piaccio La prima cosa per una donna è il piacere ad un uomo, no? Io sono libera ma sono onesta Tu sei libero e sei onesto Per cui ci sposiamo Avremo almeno due bambini E li chiameremo libero e onesto E vivremo felici e contenti Come hanno fatto mia madre e mio padre Tuo padre e tua madre Allora Giovanotto Posso accompagnarla? No E perché no? Mannaggia Ma che c'entra? Cosa fai qui? Avevi promesso di portare i bambini al cinema Ma è mezz'ora che ti aspetto Buoni, buoni, buoni Ma di tutto tu Altro che aquila solitaria Sembra una chiozza con i pulcini Andiamo? Andiamo Franco, sai Sono proprio contenta Ma credi che andranno d'accordo Lo zucchero col formaggio? Ma certo Tu cerca di essere per me Uno zucchero più dolce E io cercherò di essere Un formaggio Meno piccante Finalmente soli Qui? Non le piace? Senta, Yvonne In questo affollato albergo Dove finalmente Sono riuscito a raggiungerla C'è un solo posto appartato Dove potremo studiare tranquillamente I drammi segreti della psiche umana La mia cameretta Non so se vi spiego È un invito forse? È un invito A studiare naturalmente Disomorata Disomorata Che succede qua? Però Prego Ah, ah, ma qui adesso l'affare si complica Pardon? Soli? Sì, noi due soli Finalmente lei non è più l'infermiera Ed io il paziente Insomma, siamo uomo e donna Aveva qualche dubbio, comendatore? No, in quanto a lei nessuno In quanto a me si informi Si accomodi No Lei Ah Si metta pure a suo agio Si sfogli dei suoi complessi Modestamente sono un raffinato Autentico champon francese Sa che farò? Libererò del suo freno inibitore Questo delicato nezzale Bastano le sue parole a inebriarmi Eh, via Le parole non bastano Dovrei essere ispirato come il Petrarca per dir Per consigli Ma che vuoi? Giù, sgabellò Scusi maestro Che c'è Giorgio? C'è una chiamata interurbana per lei Ah, ho capito Deve essere il comandatore Rossi L'editore musicale Quello di Sanremo? Appunto Ma è proprio lui? Sì, proprio lui Perché? Complimenti maestro Amore Ho veduto cambiarsi La mia solita strada In un angolo fantastico Incontrando vite Parole e immagini Corrono Improvvisamente intorno a me Che i più romantici attimi ritornano a vivere Perché oggi ho rivisto te Sembra impossibile Credere che sei veramente accanto a me E posso chiederti Parlami, sorridimi Guardami perché Oggi ho rivisto te Oggi ho rivisto te Ho voglia di ridere Arrampicato sul sogno più alto Ed impossibile con te Ed impossibile con te Ricordi e immagini Ricordi e immagini Ricordi e immagini Santano Improvvisamente intorno a me E gli incredibili E gli incredibili attimi ritornano a vivere E perché Oggi ho rivisto te E perché E perché E per te E per te E per te E per te Bravo 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 Ma stia attenta Sbagliato lunghezza d'onda Quello è l'Egitto Non vede una mummia Ma chi è mummia d'Egitto? L'onore mio Vendicai Quello è il Commendatore Barbetti Ma lei dovrebbe sapere Dottore Che certi metodi Sono sconosciuti Nel campo della terapia Ma che terapia Terapia Cambo di corna Ma quando è così Occupiamoci pure d'altro Possiamo cambiare canale Ecco Bravo Bravo Cambi pure canale Subito Ecco fatto Tutto a posto Eh Visto Visto Ci deve essere Un'interferenza di canale Quella è mia moglie Guardi come si erudisce Ah Scarichi il canale Scaricato Grazie Grazie Ah Questa si Di nuovo La signorina Elena Tutta sola Deve essere Un temperamento Depresso Soggetto a Crisi psicologiche Esatto Professore Ma che vuole andare via? Si E' un caso clinico Che mi ha sempre Molto interessato Deve essere Nuovamente in crisi Il soggetto Vorrei sincerarmene E voi Mi raccomando Se dovesse capitare A mia moglie Mosca Capito? Sicurito professionale E' tranquillo professore Mica male però L'idea di passare Qualche giorno All'aria aperta Questo ritorno Alla natura Alla vita primitiva Questo sottile Delicato profumo Di pini Che pare Ti accarezzi Sempre le narici Sai che la trovo bene? Dice Sono due giorni Che sento Un dolorino Qui Professore Mi ausculti Sarà grave Credo Ora l'auscolterò Bravo il nostro professore Dottore Credi che stia applicando La sua teoria Contro le donne? Di teorie senza meno Si tratta Ma non contro le donne Mi pare Se lo vede la moglie Il morto ci scappa Si scapperà Non dramatizziamo Signora Mimma Si tratta di un'infatuazione Spirituale Platone Ganza E platonicissima Platonicissima Un corno E lo difendete pure Lussuriosi Ma glielo farò vedere io A quel Don Giovanni Da strapazzo Però forse Non sarebbe male Fare una bella visitina Un po' più particolareggiata Ma allora facciamola subito Si ma dove? Qui Nella mia roulotte Si a tempo Buona L'idea della roulotte Così Quando usciamo fuori Le salsicce saranno cotte Prego Prego Ecco qua Pronto Povero professore In fondo un bravo uomo E' raddecentiato Marito esemplare E' illibatissimo Bisogna saldarlo L'umanità Grata in eterno Ci sarà se lo salveremo Saldarlo o morire con lui Con la signora Mimma Questo pericolo si corre Ma non importa Andiamo Aplosiamo No 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 годini Aiuto ! Correte ! Correte ! Correte ! Correte, prima che siete a volarli ! Ma, 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 ti spiegherò tutto ! Cosa ? Ma la paziente l'hai vista com'è fatta ? Come fatta ? È fatta, bella ! Ah, no ! Toyota ! Ma, no ! Fammi fare il sacco ! Vi metto la mia ! Prego ! Che non c'erano più ! Vai, è morto ! Ma non c'erano più ! Non c'erano più ! Te ne accorgerai ! Ma selezze voi ! Ma voi chi siete ? Novo non per rumore di potermi con me ! A me ! Sono gli infermieri del manicomio provinciale, li ho chiamati io ! Ma sono il direttore di un manicomio, io ! Oh ! Preschiettini ! No, no, no! Per dar te focus! Finalmente t'ho trovato! Per dar te focus! Diavolo d'uomo, com'è fatto a scoprirmi? Come ho fatto? È tutto il film che ti cerco. Cammina! Vai! Perchè te vada, che romatto, eh?